Quando Matteo Cibic è venuto a darci la sua interpretazione di scalare, in realtà ci ha parlato molto poco di singoli progetti o di dimensioni fisiche dello spazio e molto più in termini di concetti. È stata una interpretazione veramente molto spinta sul versante concettuale, tant'è vero che la sua dimensione small ha coinciso con un progetto molto grande, in realtà, se prendiamo appunto il riferimento, che è quello per le team towers che lui ha immaginato nel 2016, che è stato in realtà un progetto di branding che partiva da qualcosa di molto piccolo, di molto sottile, come un filo che è quello delle reti connettive. La dimensione della media, della M, è partita da un suo statement, ovvero che sono i brand che fanno le nazioni e non viceversa. Quindi il tema è stato quello dell'impatto di determinati modi di produrre rispetto ai territori dove queste produzioni sono generate. Quindi ha preso l'esempio di due aziende indiane per le quali lui ha creato delle collezioni, ovvero Jaipo Rags e Scarlet Splendor. In entrambi i casi, sottolineando proprio come forse non esiste più quello che un tempo veniva definito un design nazionalista o nazionale, quindi con delle prerogative da un punto di vista proprio dell'immagine, della comunicazione, dell'aspetto formale della singola nazione, quanto un senso proprio di impatto sull'indotto territoriale. Quindi la nazionalità è più data proprio da quello che il prodotto genera piuttosto che dal suo aspetto meramente formale. La dimensione del large ha quindi preso in considerazione il ripensamento dei sistemi sia produttivi che distributivi, in particolare collegandoli per esempio ad un settore come quello dell'alto artigianato, che è molto importante da un punto di vista della storia del prodotto, ma che se oggi non riuscirà ad aggiornare le sue reti di distribuzione, incontrerà sicuramente dei blocchi e delle difficoltà immense. La ultima scala, quella dell'extra large, è stata forse quella in cui si sono aperti più dubbi e date meno risposte, perché Cibic è partito proprio dalla valutazione della sua personale carbon footprint, cioè della sua impronta in termini di impatto sull'ecologia e sulla sostenibilità delle proprie abitudini rispetto al pianeta intero. Ecco, questo sicuramente è stato un aspetto che ha generato un confronto con tutti i presenti nel quale ci siamo davvero interrogati su quelle piccole e grandi azioni che tutti noi potremmo modificare o comunque andare a valutare in una maniera più consapevole, pensando proprio a quello che generano in termini di impatto ambientale.